In questo momento c'è anche l'arrivo dell'influenza, che si può combinare con il Covid. Sai che c'è questa voce per la quale la quarta dose aumenterebbe la probabilità di Covid? No, è il contrario. È come dire che portare il casco aumenterà la probabilità di morire in motocipetta. No, non è vero, è proprio una bugia. Una bugia, bene. Se abbiamo una strategia in cui diamo i boosters, diciamo, ogni 4 mesi, approssimativamente, avremo potenzialmente problemi con l'immunità. L'immunità non è così buona come potrebbe essere, quindi dovremmo essere careful di non perdere l'immunità dell'immunità. e, secondo me, ovviamente, il rischio di fatigui la popolazione con un'imunità continuo di aumentare.